Ognuno di noi ha desideri, la nostra lista personale di sogni e aspirazioni. La creazione potrebbe avere i suoi piani per noi, ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente. Possono essere stravaganti o banali, ambiziosi o di poco conto. Possono essere inopportuni, possono essere troppo personali per essere condivisi, ma sono nostri e per noi sono reali, sono preziosi, sono urgenti e profondamente importanti. Ecco un dono speciale da Sadguru, un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione. È un dono che permetta a ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi, che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati. Sadguru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri, ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto. Meditazione Chit-Shakti per la salute. Chit-Shakti, be the maker of your own destiny. Chit-Shakti, sii l'autore del tuo destino. As humans, all that we have created is just a manifestation of our minds. Come esseri umani, tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Quindi, la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. Ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione nella realtà. Chit-Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. Le meditazioni Chit-Shakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita. May you know the power of being the master of your own destiny. Che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino. oi! oi! Grazie a tutti. Tieni mani e gambe non incrociate. Appoggia le mani sulle cosce. Palmi rivolti verso l'alto, ben rilassati. Chiudi gli occhi, siedi comodamente. Fai un respiro profondo e rilassati nell'espirazione. Fai un altro respiro profondo. E mentre espiri, rilassati ancora di più. Fai un terzo respiro profondo. Questa volta il rilassamento deve essere totale. Ora, contrai i muscoli dei piedi. Solo i piedi. Contrai, contrai, contrai e rilassa. Ora, contrai i polpacci. Solo i polpacci. Dalle caviglie alle ginocchia. Contrai, contrai, relax. Rilassa. Ora, contrai le cosce. Contrai, contrai, relax. Contrai, rilassa. Contrai i muscoli delle anche e dell'addome. Contrai, 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 relax. Rilassa. Ora, contrai i muscoli del torace, delle spalle e della schiena. Contrai, contrai. Contrai, mantieni la tensione. Rilassa. Contrai le braccia. Contrai, contrai. Stringi i pugni e crea tensione. Contrai, relax. Rilassa. Contrai i muscoli del collo. Contrai, tense. Contrai, relax. Rilassa. Tense the muscles on your face and the back of your head. Contrai i muscoli della faccia e della nuca. Make a face and create tensione. Fai una smorfia e crea tensione. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Rilassa. Tense. 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 Inspira profondamente. Mentre inspiri, porta la tua attenzione alla sommità della testa. Ed espira, portando la tua attenzione giù, fino ai piedi. Di nuovo, inspira, portando l'attenzione alla sommità della tua testa. Espira, portando l'attenzione giù, fino ai piedi. Un'ispirazione profonda e un'ispirazione completa. Ad ogni ispirazione, porta l'attenzione alla sommità della testa. E con l'espirazione, porta l'attenzione giù, fino ai piedi. Un'ispirazione profonda. E un'ispirazione completa. Mantieni la tua attenzione in movimento con il respiro. Inhalazione, devi arrivare alla sommità della testa. Espirazione, giù, fino ai piedi. Inhalazione, prendi l'attenzione all'interno della testa. Inhalazione, prendi l'attenzione all'interno della testa. Inhalazione, sotto i piedi. Inhalazione, porta l'attenzione all'attenzione. Inhalazione, la sommità della testa. Espirazione, giù, fino ai piedi. Continua questo processo. Ispirazione, azonde, non veniva dall'attenzione. Grazie a tutti. 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 Rilassa il tuo respiro. Mantieni la tua attenzione alla sommità della testa. And slowly, very, very slowly move your attention downward. E lentamente, molto, molto lentamente, sposta l'attenzione verso il basso. And see that as you move your attention down and see that as you move your attention down, every cell that comes with bright white light. Ogni cellula che entra sotto la tua attenzione di un'intensa luce bianca. As you move your attention from the top of your body lighting up with bright white light. Mentre sposta la tua attenzione verso la fronte. As you move your attention down and see that as you move your attention down and see that as you move your attention down, accendersi in un'intensa luce bianca. down into your face, see it lighting up further down, towards your chin, see the whole region lighting up once a lot of time. Giù verso il tuo viso, vedilo illuminarsi. Ancora giù verso il tuo mento, vedi l'intera area illuminarsi una cellula dopo l'altra. Further down into your throat, see it all lighting up cell by cell, bursting into bright white light. Ancora giù nella tua gola, vedila illuminarsi cellula dopo cellula accendersi in un'intensa luce bianca. down to your throat, into your chest, see the upper region of your body all lit up. Giù oltre la gola, nel tuo torace, vedi la parte superiore del tuo corpo tutta illuminata. Vai ancora più giù, oltre il torace, ancora più giù. Vedi ogni cellula del tuo corpo che si accende, vedi le tue braccia illuminarsi completamente. Go down to your stomach, see it all lighting up, every cell in your body lighting up with bright white light. Vai giù al tuo addome, vedilo illuminarsi completamente. Ogni cellula del tuo corpo si illumina di un'intensa luce bianca. Vai ancora più giù. La base del ventre, fino al linguine. Vedi ogni cellula del tuo corpo completamente illuminata. Vedi che l'energia che ha creato il tuo corpo è all'interno. Permetti a questa fonte della tua creazione di sanare e ricostituire ogni cellula del tuo corpo. Permetti a questa fonte della tua creazione di sanare e ricostituire ogni cellula del tuo corpo. Vedi il tuo corpo venire nutrito e ricostituito dall'interno. Vedi ogni cellula del tuo corpo. Vedi ogni cellula del tuo corpo guarire e rigenerarsi dall'energia che è la creatrice del tuo corpo. Vedi ogni cellula del tuo corpo. Vedi ogni cellula del tuo corpo guarire e rigenerarsi dall'energia che è la creatrice del tuo corpo. Permetti a questa energia di crescere dentro te. Permetti che cresca. Permetti a questa energia di crescere dentro te. Vedi che ogni cellula del tuo corpo è toccata e guarita. Vedi che ogni cellula del tuo corpo è toccata e guarita. Vedi il tuo corpo risplendere di salute e benessere. Vedi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.